sembra proprio che sossio a ruta abbia deciso di voltare pagina dopo il noto addio a ursula bennardo il gossip si è infuocato intorno a nuove indiscrezioni l'ex calciatore protagonista del reality uomini e donne è stato avvistato in dolce compagnia a confermarlo è stato l'esperto di gossip a medeo venza che ha ricevuto uno scatto esclusivo di sossio insieme a una misteriosa donna i fan sono in subbuglio chi sarà la nuova conquista di sossio le foto trapelate su instagram mostrano i due insieme in un weekend rilassante tra bagni in piscina e risate sotto il sole chi è la misteriosa compagna l'identità della nuova presunta fidanzata di sossio a ruta rimane avvolta nel mistero le speculazioni si susseguono ma ancora non c'è nulla di confermato venza sempre sul pezzo ha espresso entusiasmo per questo nuovo capitolo nella vita sentimentale di a ruta sottolineando come il cuore dell'ex calciatore sembri di nuovo in grado di amare i dettagli rimangono scarsi ma il clima intorno a loro sembra già ricco di promesse e novità la domanda sospesa nell'aria è inevitabile quanto tempo passerà prima che sossio si decida a rendere pubblica questa relazione il mondo del gossip si interroga anche sulle possibili reazioni di ursula bennardo l'ex compagna di sossio e madre di sua figlia la loro separazione avvenuta qualche tempo fa era stata molto chiacchierata con dichiarazioni emotive e promesse di un amore che sembrava eterno ora che sossio appare nuovamente innamorato i fan si chiedono come ursula accoglierà questa novità nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte di a ruta l'aria che si respira è quella di un nuovo inizio forse proprio quello che sossio aveva bisogno per ritrovare il sorriso dopo i momenti bui seguiti alla rottura resta da vedere se questa relazione sarà quella definitiva o solo un breve capitolo nella vita sentimentale di sossio a ruta grazie a tutti